mi interessa e parte la registrazione del gameplay vi ricordo che è allogoramento questa la partita io passerò l'intera partita a camperare qua dentro in questo punto comunque ma non mi funziona più il gioco non sento più il gioco sento solo a voi oh e non fischiare un rompere il caos guarda come ti fai oh ce ne arrivano dietro momenti da ammazza che è venuta qua mamma mia ma porca puttana c'è anche il titan ma sto struzzo di merda ma lo devo scassare e muore com'è giusto che sia ok taita ragazzi c'è un titan nemico occhio eh vabbè non lo dico a fa po ma ha fatto veramente un cannone hark ma io adesso ma io adesso me lo vado a montare tutto dove sta me lo devo montare eccolo ma ecco ma sei fottuto sei fottuto vedi strunz vai che ti dà una mano vai che ti dà una mano vai che l'hai distrutto occhio al pilota occhio al pilota potrebbe volere vendicarsi strunz ti vendico spappo ti vendico subito mi hai scassato il culo a quello del titan ti ho rotto il culo l'abbiamo visto tutti vai spappo vai così mi hai scassato il culo a mi hai scassato il culo a oh mi ero stufato di camperare finalmente possiamo tornare a giocare di bene e felice abbiamo uno più sopra che ci andiamo subito a fare io quanto li odio quando non muoiono quanto li odio quando non muoiono cioè non c'è cosa che odio di più quando non muoiono chi è che sta stavendo sto scendendo chi è che vorremmo di comando io ho un pollo che se pure è ritornato è fatto ammazzarmi io non lo voglio chiamare taika però questo è meglio scrivere no cazzo vai strunz tu cazzo vai con chi ha la pistola in mano vieni qua che sta strappando il cuore che cazzo fai che cazzo fai con questa canna in mezza strada che sta facendo che sta pazziando il cazzo a oh occhio fatteli tutti no chi è che ti ha ammazzato maledetto isa ti ho subito vendicato stavo a guardare che ti ammazzavi i bottini invece ti ha sparato quello che è l'infame certe cose non dovrebbero dire come questo bambino qui si scende dal titan scende dal titan e sodomizza sodomizza come giusto che sia e come è sempre stato così che scendi dal titan dove siete maledetto non devi trovare vado di uccidere uno lì del metrido ce l'hanno con me tu sei forte tu sei forte potresti anche uccidermi peccato no chi è stato maledetto subirai l'ira di accattone vabbè va giusto per catturatore meglio da fare te lascio perdere il blasta questa è così così aia questo è 9-9 oh merda che me ne vado eh si amico hai conosciuto la mira di accantone e ancora una volta è accantone a farsi la kill della vittoria qualcuno si chiede come faccia ad assicurarsi sempre la kill della vittoria a Tunei invece no si fa f***o devo dare una mano d'acqua sotto oh guarda c'è uno gnatschilo là dietro ti vuol far saltare in aria ma sono contento dai non stai già da davanti beh vieni bello che adesso mi faccio te e poi il tuo amico dove sei oh ho sbagliato zombo il ceserese no ho perso la doppia kill ho perso la doppia kill in un mec che non si dichesse vai spacco tiro le granate le granate le granate mi ha sembrato di aver visto un pilota nemico eh si era un pilota nemico un commento a freddo ita siamo forti grandissimo non 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 Grazie a tutti.